Si prepara l'ennesima battaglia in tema dei liberi consorsi dopo la pubblicazione da parte della regione siciliana del decreto che stabilisce i criteri per la ponderazione del voto dei consiglieri dei comuni interessanti dal turno elettorale comunale della scorsa primavera, a rilevare l'inghippo e il Comitato per lo sviluppo dell'area giulese che parla di stravolzone da parte del governo regionale. Abbiamo segnalato già in passato che il voto ponderato non garantiva i comuni andati al voto nel 2016 pari dignità con tutti gli altri comuni. Adesso cercano di metterci una pezza con il decreto 318 dell'assessore regionale alle autonomie locali e questo decreto nuovamente diventa incostituzionale perché praticamente fa risalire al voto dei consiglieri comunali che dovrebbe essere segreto. In pratica quei comuni andati al voto nel 2016, nella scheda che avrà lo stesso colore degli altri comuni ci sarà scritta la digitura bis e quindi è facilmente rintracciabile. Al fianco del Comitato per lo sviluppo dell'area giulese e a quello dei comuni di Niscemi e Piazza Almerina interverrà anche il noto avvocato, docente universitario ed ex assessore regionale Gaetano Armao. L'avvocato Armao ha fatto una chiara dichiarazione, ha detto intanto che a giorni procederà a depositare a tarra il ricorso per l'annullamento degli atti amministrativi che ormai, leggo testuali parole, che ormai celebrano un procedimento illegittimo. Ci sono delle chiare responsabilità e coloro che le hanno determinate dovranno spiegare ai cittadini di Gela, Piazza Almerina, Niscemi e non solo, come possa ignorarsi l'esito dei partecipati in referendum popolari. Ecco, in merito proprio alle elezioni, ma quando si svolgeranno? Beh, le elezioni adesso con questo nuovo problema di questo appena sollevato dovranno nuovamente rinviarle, anche se oggi la Giunta si rinuniva per indire le elezioni, possiamo già anticipare che verranno nuovamente rinviate e quindi non sapremo quando si faranno queste elezioni, è una riforma che ha delle pecche incredibili, sono stati fatti otto passaggi legislativi e ancora oggi si attende il passaggio alla città metropolitana di Catania che per la Regione, vogliamo dirlo a tutti, è un passaggio obbligatorio e non più posticipabile nel tempo. È una telenovela vera e propria? È una brutta telenovela, ci sono le telenovela a lieto fine, ci sono poi le telenovela che sono brutte anche solamente a guardarle, questa è una di quelle che è veramente sgradevole.